Mi chiamo Stefania Mellai, lavoro per Arduino da un po' più di tre anni e mi occupo di sviluppo front-end. Oggi vi racconterò una storia di CSS e lupi mannari. Prima però vi farò una piccola introduzione su Arduino perché magari alcuni di voi non sanno proprio che cos'è oppure ho qualcosa da raccontargli che ancora non sapevano. Essenzialmente Arduino è una piattaforma di sviluppo open source che possiamo descrivere in tre elementi fondamentali. Molti di voi la conosceranno come una scheda elettronica programmabile, tendenzialmente a basso costo, utilizzata per la prototipazione di dispositivi elettronici sia in ambito professionale che nel lobbystica dai cosiddetti makers. E anche in ambito didattico per insegnare l'elettronica nelle scuole, già dalle scuole primarie, nelle scuole superiori, ma anche per esempio molto utilizzata nelle scuole di interaction design. Infatti la scheda nasce proprio in una scuola di interaction design per insegnare ai designer l'elettronica. In particolare a prototipare un progetto in un modo più semplice di quello che poteva essere disponibile con le piattaforme che esistevano prima che esistesse Arduino. E' infatti programmabile con una versione semplificata del C++ ed è stato proprio pensato per ridurre al minimo lo sforzo iniziale nell'approccio all'informatica e all'elettronica. Come si programmano le schede? Si utilizza questo software desktop, storicamente si utilizza questo software desktop open source che Arduino mantiene da oltre dieci anni, scritto in Java, come vedete con un'interfaccia essenziale, quindi non pensata per un programmatore professionista che probabilmente oggi i programmatori professionisti se vogliono programmare con Arduino useranno il loro editor preferito, non questo, perché questo appunto è pensato per essere il più semplice possibile. Anche l'hardware è open e tutti gli schemi delle schede sono disponibili e scaricabili sui nostri siti. Un'altra parte fondamentale è la community di Arduino, che si esprime attraverso gli Arduino user groups, workshop organizzati nei Fab Lab o nei Maker o Hackerspaces, eventi come Arduino Day e Maker Faire. Inoltre la community si esprime direttamente sul software, per esempio, proponendo contributi ai nostri software open source, sia scrivendo direttamente il codice che segnalando problemi o miglioramenti attraverso GitHub o il nostro forum ufficiale. Il forum tra l'altro è in gran parte tenuto vivo e moderato da appassionati volontari che fanno un lavoro meraviglioso, devo dire. Arduino inoltre coinvolge di tanto in tanto i suoi utenti più affezionati o utenti a campione in programmi di beta testing dei prodotti sia hardware che software. Ovviamente poi abbiamo una parte web e di questo parliamo oggi. Quanti siti ha Arduino, innumerevoli, erano già tanti tre o quattro anni fa, adesso sinceramente perdiamo il conto di quanti sono. Possiamo però dividerli in due famiglie principali, quelli che stanno sotto Arduino CC slash qualcosa, qui vediamo una carrellata, c'è la home page con contenuti più o meno statici, la reference del linguaggio e il glossario, lo store dove sono in vendita i nostri prodotti sia per i consumer che per i distributori, il forum, come accennavo prima, il blog, la pagina profilo e tutte le pagine accessorie che servono a far accedere gli utenti a registrarsi, e il sito degli Arduino User Group e il sito di Arduino Day. Abbiamo poi un'altra famiglia che sta sotto il dominio create.arduino.cc e poi appunto le varie applicazioni sono sotto slash qualcosa, che è costituita da applicazioni web un po' più complesse, la cui prima è stata il web editor, ovvero la versione web dell'editor che abbiamo visto prima a desktop, in cui gli utenti possono accedere e avere il loro sketchbook, gli sketch sono il nome del programma Arduino, quindi la loro raccolta di programmi sul cloud, quindi accessibile da qualsiasi dispositivo. Sempre sotto questa famiglia abbiamo la piattaforma dei progetti che si chiama Project Hub, quindi dove la gente può condividere il proprio progetto e altri quindi possono imparare a fare qualcosa con Arduino, e una piattaforma che abbiamo sviluppato ultimamente per la gestione di device IoT. La gestione di tutto questo ecosistema costituisce probabilmente un caso non tanto diffuso nello sviluppo web. Per quello che mi immagino infatti è forse più comune che uno sviluppatore web lavori per una società di consulenza, una web agency o anche come freelance, e abbia a che fare con clienti diversi, ognuno con la sua brand identity. Oppure che lavori per una società che produce un software solo, che questa è in pratica l'esperienza che io ho avuto prima di lavorare in Arduino, ho lavorato sempre in ogni altra società in cui ho lavorato, lavoravo a un solo progetto. Nel caso di Arduino invece il cliente è sempre lo stesso ed è rappresentato dalla nostra community, dall'insieme dei nostri utenti. I software sono molteplici ed eterogenei, anche sviluppati con diverse tecnologie da diverse persone, anche da eventualmente aziende esterne, ma tutti i nostri prodotti devono possibilmente condividere la brand identity, lo stile di elementi UI e anche riproporre intere parti esattamente uguali. Infatti, se riprendiamo questa parte qua, tutti questi siti qui condividono lo stesso header e lo stesso footer, mentre questi siti qui non hanno quell'header e quel footer, però hanno, se vedete, noi chiamiamo il barbecue button, quello in alto, apre una navigazione a tendina che è condivisa tra tutte queste applicazioni. Oltre a questi che vedete qui, abbiamo anche altre applicazioni ad uso interno, che ovviamente sono meno rifinite nel design, non scommuniamo un designer per disegnare una roba che magari usiamo internamente in 4 o 5, però visto che ce li abbiamo, magari degli elementi che possiamo riutilizzare, e cerchiamo di mantenere una coerenza anche in quelli. Quindi, finora, le maggiori sfide che abbiamo dovuto affrontare per gestire questa situazione sono appunto il sistema di autenticazione centralizzato, la condivisione di header e footer, e infine la realizzazione di uno stile di componenti grafici riutilizzabili. Ora arriviamo ai lupi mannari. Anche se la copertina del libro rappresenta invece orsi che combattono in una fossa di sabbie mobili, probabilmente. Ho da poco finito di leggere questo libro, The Mythical Manmont, di Frederick Brooks. Non è un libro di favole, anche se parla di lupi mannari, ma è probabilmente il più grande classico di ingegneria del software, citatissimo in tantissimi altri libri e articoli. La prima edizione è del 1975, ed è poi uscita un'altra edizione nel ventennale, quindi nel 1995, con dei capitoli aggiuntivi. Il libro essenzialmente discute dell'efficacia dell'uomo o mese come unità di misura del lavoro necessario a completare un certo tipo di task, e in particolare mette in evidenza quanto tale unità di misura sia un modello inadeguato o quantomeno troppo semplicistico se applicato al software. Da questo libro, infatti, non so se l'avete mai sentita, ma viene la famosa legge di Brooks, che sostiene che aggiungere forza lavoro a un progetto software in ritardo lo farà tardare ancora di più. Questo perché? Perché sappiamo che il software è una cosa intrinsecamente complessa, in cui già di suo, anche se sei da solo a sviluppare un software, è complicato mantenere una coerenza e mantenere insieme tutti i pezzi, più si è a lavorare allo stesso progetto, più quello che esplode è la gestione della comunicazione tra le parti. Quindi, man mano che ci si aggiunge forza lavoro, esplode l'energia necessaria e il tempo a gestire la comunicazione. Infatti, rispetto ad altri ambiti dell'industria, il software possiamo più paragonarlo a un parto, diciamo, perché, come tutti sanno, non si può portare a compimento una gravidanza in un mese semplicemente mettendo insieme nuove donne. Arriviamo al lupo Mannaro. Uno dei capitoli aggiuntivi dell'edizione del 1995 si intitola No Silver Bullet. In questo capitolo Brooks spiega che, nonostante spesso compaiano nuovi linguaggi di programmazione, tool, framework, che promettono miracoli, permettono di incrementare la produttività, la semplicità o l'affidabilità nello sviluppo del software, in modo decisivo, non potrà mai davvero comparire nessun tipo di innovazione che faccia miracoli in questo campo. Il software è appunto come un lupo Mannaro. Anche ciò che all'inizio ci sembrava innocuo, rassicurante e amichevole, può da un momento all'altro trasformarsi in un mostro. E non esistono proiettili d'argento. Non esistono soluzioni facili. Questo secondo me è particolarmente vero per quanto riguarda il CSS. Perché, come sappiamo, magari è un caso comune che ci capita di rimuovere una funzionalità e ci dimentichiamo di rimuovere il CSS che era associato a quella funzionalità. Perché tutto comunque continua a funzionare. Quindi ci rimane questo zombie che potrebbe benissimo non avere nessun effetto sul resto dell'applicazione. Oppure potrebbe invece produrre qualche effetto, ma poi non sappiamo di preciso su quante altre parti dell'applicazione c'è questo effetto ed è difficile uscire da questo tunnel e ci ritroviamo con una codebase davvero sporca. È sempre più difficile da mantenere. Non parliamo poi, come nel nostro caso, del caso in cui il CSS è magari condiviso su n-siti web. Cosa che nei nuovi sviluppi non facciamo più, ma nei siti che avevamo storicamente effettivamente è ancora così. C'è un file CSS caricato da siti diversi. Persino in JavaScript, che come sappiamo ha i suoi difetti, anche lui, è molto più semplice in fase di refactoring magari eliminare una funzione e scoprire che non era utilizzata da nessuno o semplicemente facendo una ricerca su tutti i file. Quindi, questo libro ha generato un enorme dibattito e molti hanno accusato Brooks di eccessivo pessimismo. In realtà, lui dice di non essere pessimista, ma semplicemente scettico. E che la sua idea non è quella che non esista una via d'uscita, ma semplicemente che la strada non sia una strada spianata, non sia un'autostrada. La via esiste, semplicemente non è proprio agevole. E gli strumenti che abbiamo per percorrere questa strada sono i soliti dell'ingegneria del software. cioè sfruttare software già esistente, non rinventarsi la ruota, cercare di mantenere una crescita organica dei progetti, in particolare scrivere il codice solo quando veramente serve e può essere usato e testato. Naturalmente modularità e riuso. Quindi, cosa abbiamo fatto per cercare di difenderci dai lupi mannari? Come vi accennavo, una delle strategie che abbiamo adottato è stata quella di scrivere una libreria CSS, SAS, per mantenere coerenti i nostri progetti e controllare quindi la complessità con cui abbiamo a che fare. Questa libreria non è nient'altro che una collezione di mix-in e placeholder, include Barbon, che è una collezione di mix-in e placeholder, ma visto che sono già fatti per riscriverli. Quelli che usiamo di più di Barbon sono Position e Size, che quindi sono dei mix-in che ti permettono di scrivere un codice CSS in una riga invece che 4, per esempio, o 5 nel caso di Position. Lo usiamo già in oltre 10 siti in produzione, è installabile con NPM, in continua evoluzione, perché man mano che lavoriamo a una nuova funzionalità e ci rendiamo conto che quello che stiamo facendo può essere un componente riutilizzato in altri riposti, lo includiamo nella libreria ed è versionato. Come dicevo, lo installiamo con NPM, anche per importare gli stili in questa presentazione ho fatto NPM Install, l'unica cosa è che questo repo è privato, quindi l'installazione va fatta con SSH. Perché abbiamo adottato questa soluzione? Per esempio, per includere header e footer in tutti i siti abbiamo usato una soluzione diversa. Il codice di header e footer, che è fatto di HTML, CSS e JavaScript, viene servito da una CDN e ogni sito lo inietta all'interno del suo HTML. Perché non abbiamo fatto così anche qui? L'unico modo di fare, di adottare la stessa soluzione, anche in questo caso, era servire il CSS già compilato dalla CDN. E questa non è una buona soluzione, cioè era la soluzione che avevamo prima di introdurre, è questa. Costringi tutti i siti a scaricare anche il codice che non utilizzano. in questo modo non costringi lo sviluppatore a fare override di stili che eventualmente non servono o che vuole personalizzare. E il versionamento consente di non rompere siti che usano versioni precedenti. Quindi adesso, per esempio, anche in questo momento abbiamo alcune applicazioni che usano una versione precedente della libreria e basta semplicemente continuare a tenere quella versione anche se nelle versioni successive sono stati introdotti i breaking changes. Questa soluzione, inoltre, introduce un vantaggio molto importante che è il disacoppiamento tra HTML e stile. Quindi un principio molto importante dell'ingegneria del software che è la separazione degli interessi. Per esempio, cosa succede quando usiamo Bootstrap o Foundation o queste librerie? Abbiamo un accoppiamento molto forte tra HTML e CSS. Se domani non vogliamo più utilizzare Bootstrap o vogliamo personalizzare fortemente un componente o fare qualcos'altro noi dovremmo andare a cambiare anche l'HTML. Con la nostra soluzione, invece, vediamo in questo esempio che abbiamo lo stile delle notifiche o di messaggi che mettiamo sopra i form. Per utilizzarli ci basta importare il placeholder. se domani vogliamo cambiare completamente lo stile di questi elementi ci basterà cambiarlo nella libreria SAS e automaticamente il sito avrà lo stile aggiornato senza toccare l'HTML e nemmeno il suo CSS. Quindi la libreria consente di importare il file delle variabili, di importare anche solo un mix-in singolo. Per esempio, in questa presentazione credo di aver importato solo le variabili e un mix-in che dovrebbe essere lo spinner perché l'ho usato in una slide dopo oppure di fare l'import completo di tutto quanto cosa che non genererà nessun codice perché la libreria è appunto una collezione di placeholder e mix-in quindi tutto ciò che non viene utilizzato non genera codice. Qui abbiamo un esempio di utilizzo delle variabili quindi nelle file delle variabili abbiamo messo soprattutto la palette colori e la tipografia. Per quanto riguarda i mix-in li abbiamo utilizzati solo per quegli elementi che sono configurabili quindi a cui passiamo dei parametri. Questo è l'esempio che vi dicevo prima dello spinner è un mix-in configurabile a cui possiamo passare le dimensioni colori e quindi in questo caso abbiamo due spinner con due colori diversi. I placeholder invece li abbiamo utilizzati per tutti quei casi in cui abbiamo degli elementi che non sono configurabili e semplicemente hanno degli stili fissi come ad esempio la paginazione qui appunto basta importare il placeholder e si otterrà l'effetto nell'immagine sotto. Ovviamente questo componente è un componente abbastanza complesso che richiede che l'HTML abbia una struttura precisa. Perché abbiamo scelto di utilizzare i mix-in solo per i componenti configurabili e i placeholder per quelli non configurabili? Perché quando non è necessario appunto usare un mix-in è sempre meglio usare un placeholder perché il codice compilato che ne risulta è più compatto. Se noi usiamo un mix-in per fare in questo caso stiamo facendo la stessa cosa stiamo appunto definendo lo stile delle notifiche che abbiamo visto prima ma se lo facciamo con i mix-in stiamo replicando tutte le regole comuni ai due elementi nel codice compilato per quanto riguarda i browser supportati negli ultimi sviluppi che abbiamo fatto stiamo tentando di testare soprattutto Chrome, Firefox, Safari Edge e l'ultimo Explorer perché come si vede dai dati dell'ultimo anno per fortuna i nostri utenti hanno abbastanza abbandonato i browser più vecchi poi abbiamo applicazioni più vecchie come l'editor il web editor in cui diciamo esplicitamente che Explorer non è supportato ma speriamo di migliorarlo nel futuro per quanto riguarda l'evoluzione il lavoro che ancora c'è da fare su questa libreria c'è naturalmente l'integrazione di nuovi moduli che avviene appunto a mano a mano che sviluppiamo nuove applicazioni o nuove funzionalità l'obiettivo di questo anno è produrre un sito web ad uso interno con la guida e gli esempi questa funzione attualmente è svolta dal readme del repository che appunto mostra degli esempi mostra come utilizzare i mix-in e i placeholder e poi uno screenshot di un esempio volevo ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito a questo progetto e poi volevo fare un ringraziamento particolare a Gabriele De Stefani Squis che ci ha suggerito questa soluzione e sia lui che a Gabriele Marchi il mio collega sempre qui che mi hanno dato dei consigli su questa presentazione visto che sono andata veloce e c'è ancora tempo credo ho due slide bonus sempre tratte dal libro in cui Brooks descrive quali sono i dolori dello sviluppatore quindi cercare di ottenere come obiettivo la perfezione è la parte più difficile di imparare a programmare e migliorarsi sempre gli obiettivi vengono spesso definiti da terzi e spesso dipendiamo da cose essenzialmente da software che non possiamo controllare ogni lavoro creativo porta con sé ore noiose di duro lavoro e programmare non è certo un'eccezione il software è perennemente a rischio e obsolescenza ancora prima di essere completato e questa è una cosa che abbiamo spesso sperimentato però lui li mette in ordine inverso io ho voluto fare il contrario e lasciarvi con le gioie invece dello sviluppatore e quali sono secondo Brooks il piacere di costruire qualcosa il piacere di fare qualcosa di utile per altri e io aggiungerei purtroppo non sempre il fascino di modellare qualcosa di simile a un rompicapo fatto di pezzi mobili interconnessi scusate questa era la mia traduzione dall'inglese magari leggetelo poi in originale la gioia di imparare sempre qualcosa di nuovo attraverso il lavoro non ripetitivo e la gioia di lavorare in un mezzo di puro pensiero e infine vi lascio con l'illustrazione del libro del lupo mannaro e dello sviluppatore che lo combatte grazie 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 grazie